Amici e amici bianconeri, bentrovati in questo giovedì 2 dicembre, particolarmente freddo e uggioso, perlomeno qui dalle mie parti, per un nuovo appuntamento con la mia rubrica Tre Gran Risposte, la rubrica che dà spazio a voi che mi seguite qui sul canale o eventualmente a voi che si siete collegati, che state ascoltando questo video, che ancora non vi siete iscritti, quindi fatelo e se vi va partecipate alla rubrica Tre Gran Risposte scrivendo una mail a grammobianconero.gmail.com che vi lascio qui sotto in descrizione, a ricevimento di 3 domande e curiosità realizzerò video Tre Gran Risposte per dare spazio appunto a quelle che sono le vostre curiosità Mi scuso con i partecipanti di oggi per il ritardo nella realizzazione di questo video perché le 3 domande le avevo ricevute già qualche giorno fa ma il tempo non mi è stato possibile per questioni di tempo realizzare prima il video a voi dedicato Comincio con Paolo Monti che ringrazio, ciao Luca, vorrei chiederti un parere su Ramsey, i vergognosi in Italia e sugli scudi in galle, secondo te perché? Grazie mille, buona giornata Come vedete dalla domanda, un pochino anacronistica rispetto ai tempi, è chiaro, è evidente che mi arrivò questa la prima subito dopo la pausa delle nazionali dove peraltro Aaron Ramsey partecipò e anche fu protagonista con la maglia del Galles anche se non sbaglio di una doppietta Quindi perché tu mi chiedi? Io la risposta del perché non ce l'ho, ti posso dire che mi è confermata, mi è stata confermata che la Juventus non gradì le esternazioni fatte dalla precedente pausa delle nazionali dal Gallese e da lì in poi la Juventus ha sostanzialmente provveduto a emarginarlo, chiamiamo così, rispetto a quelli che erano i programmi che aveva sul giocatore Quindi oggi molto spesso risulta infortunato, risulta indisponibile per problematiche muscolari La mia sensazione è che forse non sia esattamente questo ma più la voglia della Juventus appunto di aver sostanzialmente chiuso il proprio rapporto con il Gallese So che c'è la volontà di farlo uscire nel mercato di gennaio, non so se questo sarà possibile proprio perché il giocatore ha un ingaggio piuttosto elevato La Juventus non vorrebbe elargire nessun tipo di buona uscita, vedremo, però so che la Juventus sarebbe disposta anche a lasciarlo partire in prestito gratuito pur di non averlo più in rosa, quindi liberando anche uno spazio salariale per quanto riguarda la lista Champions Veniamo al prossimo partecipante che è Davide Mantellini Salve caro Luca Gramellini, seguo sempre molto volentieri i tuoi video commenti su Youtube Li trovo sempre equilibrati nei toni e in modo professionale, mai schierati a prescindere contro a favore di Proprio per questo mi piace commentare, prendo la palla al balzo per sottoporti il presente quesito Riguardo il caso Plus Valenze, da come si intende la notizia, gli anni incriminati vanno da 2018 a 2021 Io ho qualche timore o presentimento che tutto non finirà come per i due milanesi e la Roma Qui ci sono delle intercettazioni non presenti nei casi di qui sopra, ma invece utilizzate per i casi puniti di Chievo e Cesena Poi condannate, dove però le Plus Valenze fittissie erano artefatte per rientrare nei parametri economici per permettere l'iscrizione e non per il noto fair play finanziario La mia domanda non è cosa rischi la Juve, ma bensì vedendo tutta la dirigenza di questo triennio indagata Nel mercato estivo 2018 ci furono alcune operazioni particolari come lo scambio Caldara-Bonucci con un valore di Caldara esploso di oltre 10 milioni tra il valore di acquisto dall'Atalanta e quello di vendita al Milan dopo un mese senza mai aver giocato nella Juventus e l'accessione a 20 milioni di Mandragora all'Udinese e di Cerri al Cagliari per 9 milioni A pensare male si fa peccato, ma la storia progressa dal 2006 insegna molto e non fa stare tranquilli perché è noto come sia assente tra gli indagati chi fu a di Juve fino ad ottobre 2018 ora a di della squadra che più trasse vantaggio dal 2006 Cosa pensi a riguardo? Allora, interessante sviluppo della tua domanda su caso Plus Valenze Allora, siccome non ti interessa che cosa rischia la Juve anche perché obiettivamente, come ho già detto, inutile fare previsioni su cosa rischi la Juve perché ad oggi non c'è sostanzialmente nulla la Plus Valenza non è reato non c'è un parametro che stabilisca che a un calciatore non si possa dare un valore piuttosto che un altro di conseguenza effettivamente è difficile dire cosa rischi la Juve a meno che da queste intercettazioni che debbono essere secretate perché al valio degli inquirenti e quindi sotto, essendo materia di indagini e quindi sottoposta delle indagini se da queste intercettazioni dovesse emergere qualcosa di particolarmente grave nei confronti della Juventus o dei dipendenti della Juventus allora, anche in qualità di responsabilità oggettiva, la Juventus potrebbe rischiare qualcosa ma è inutile fare previsioni per quanto riguarda il tuo pensare male, si fa peccato ma spesso ci si azzecca posso solo dirti che non è tanto, ripeto, l'andare a scandagliare il valore di mercato di un giocatore piuttosto che di un altro ma è proprio far scoppiare la bolla attorno a questo doping amministrativo volto a sistemare i bilanci io credo che tutto questo sia stato fatto per mettere in guardia un po' le società da questo malcostume di sistemare i bilanci attraverso un riconoscimento di valore eccessivo ai giocatori va detto per correttezza che nell'indagine, nell'inchiesta a partire dalla procura di Torino non c'è soltanto la Juventus anche se la Juventus, come detto, fa notizia, la Juventus fa audience la Juventus consente di avere grande visibilità di fare like, di fare vendita di giornali letture di siti web di testate giornalistiche e quindi fa comodo sbattere la Juventus in prima pagina sul banco degli imputati anche quando ancora non c'è sostanzialmente nulla in mano agli inquirenti se non delle indagini in corso alle quali la Juventus ovviamente si è data disponibile a collaborare assolutamente in questa inchiesta sono presenti altre società tra cui anche quella che tu hai menzionato della quale è oggi amministratore delegato lo stesso amministratore delegato a cui tu fai riferimento di conseguenza vediamo perché essendoci delle indagini in corso non è detto che poi non possano emergere situazioni anche riguardanti altre squadre e poi magari oggi non esserci un indagato che poi invece possa uscire un domani che dire non credo siccome mi fai la domanda a pensare male si fa peccato ma spesso ci azzecca non credo che questo caso plus valenze sia stato fatto tra virgolette scoppiare come invece qualcuno può pensare in maniera più cattiva nel 2006 certo è che l'area che si respira a fronte di questa situazione che si è verificata è un'area abbastanza simile a quella che vide coinvolta la Juventus per Calciopoli la sensazione è che ci sia la volontà di andare a rompere le scatole tra virgolette al potere economico dalla Juventus alla Juventus come società forte e quindi spero che la Juventus questa volta a differenza del passato abbia una capacità e una volontà molto più ferrea di collaborare per carità ma di difendersi a fronte soprattutto degli sciacalli che approfittano del nome Juventus per sbatterlo in prima pagina accostato a situazioni palesemente negative anche quando non c'è nessuna prova al momento che possa collegare le condanne accostate alla Juventus perché va detto nei primi giorni si parlava già attraverso l'agonia mediatica di possibili sanzioni nei confronti della Juventus oggi i toni sono già sostanzialmente differenti e quindi è bene che la Juventus faccia sentire nelle sedi opportune ma non solo anche la propria la propria voce veniamo all'ultima domanda di questo tre gran risposte che è quella di Maria Teresa che ringrazio ciao Luca volevo chiederti quante possibilità ci sono di strappare alla concorrenza europea il talento 21ene del River Plate Julian Alvarez è vero che la Juve si è pentita di aver mollato Donna Roma per puntare su Scesni è vero che oltre a Milan e Fiorentina c'è anche la Juve su Berardi individuato come possibile sostituto del partente Bernardeschi grazie mille allora sono tre domande di mercato sostanzialmente vado a rispondere abbastanza rapidamente allora per quanto riguarda Julian Alvarez posso dirti che possibilità di percentuali non ne faccio il valore che viene riconosciuto al ragazzo è piuttosto elevato credo che ci sia non sia così semplice che la Juventus possa giudicarsi il giocatore sul quale peraltro ci sono altre società interessate dall'Inter alla stessa Fiorentina ma credo anche il Milan e qualche società spagnola però è vero che ci sono emissari della Juventus in Argentina o ci sono stati emissari della Juventus in Argentina per seguire le performance del giocatore e l'accostamento di Trezeguet al River Plate lascia speranze aperte su una possibile conclusione positiva dell'operazione devo però essere sincero è un investimento importante per un giocatore così giovane la Juventus oggi mi risulta ancora forte su Vlaovic mi risulta forte e presente anche sul giocatore del Pisa Lucca e quindi vedo non semplice un'eventuale operazione Alvarez per quanto riguarda la situazione Donnarumma sì ti certifico nella maniera più assoluta che Donnarumma era un obiettivo fortissimo della Juve a me risulta anche che ci fossero già un preaccordo con Donnarumma poi la mancata uscita di Vojccesni e anche il cambio in seno alla dirigenza con i saluti a Fabio Paratici abbiano cambiato l'ordine delle cose i piani di mercato e quindi Donnarumma si è poi accordato con il Paris Saint Germain per quanto riguarda l'ultima tua domanda Berardi individuato come possibile sostituto del partente Bernardeschi a me personalmente di Berardi non risulta assolutamente nulla mi risulta che Berardi era un giocatore su cui la Juventus aveva delle prelazioni su cui la Juventus era forte ormai diversi anni fa credo di andare indietro almeno di 5-6 anni fa Berardi non volle o non si sentì pronto di lasciare Sassuolo per abbracciare la causa bianconera dubito fortemente che possa essere oggi un obiettivo dei bianconeri molto più forte e queste sono informazioni che mi arrivano direttamente dalla Toscana ci sia su di lui la volontà della Fiorentina e mi risulterebbe anche dei rossoneri vediamo quello che sarà io intanto ringrazio Paolo ringrazio Maria Teresa ringrazio Davide di aver partecipato al Tre Gran Risposte invito tutti quanti voi per dare spazio alle vostre curiosità scrivermi a gramobianconero chiossosimail.com che vi lascio ripeto qui sotto in descrizione iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like alla puntata tenete azionata la campanella delle notifiche da poter essere informati su tutti i contenuti che pubblicherò su questo canale vi auguro un buon proseguimento grazie fino alla fine forza Juve ciao iscrivetevi al mio canale YouTube mettete like al video seguitemi sui social che vedete qui accanto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao